Faceva prostituire la figlia a sedicenne nello stesso appartamento in cui probabilmente anche lei si concedeva una ristretta cerchia di clienti. Una madre trevigiana è stata arrestata dalla squadra mobile su ordinanza del Tribunale di Venezia. Favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione minorile le accuse a suo carico. Sarebbe stata la figlia nel maggio dell'anno scorso a suggerire alla madre di racimolare qualcosa prostituendosi. La ragazzina ha detto che nel maggio dell'anno scorso, vista anche la ristrettezza economica in cui aveva la famiglia, c'era stata una sua offerta di contribuire anche in questa maniera all'economia familiare. La madre in un primo momento pare si fosse opposta ma in realtà successivamente di fatto la ragazza ha cominciato a prostituirsi. A dicembre l'avvio dell'indagine grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini. Una dozzina i clienti sentiti tra i 25 e i 55 anni, studenti, liberi professionisti, impiegati, 60-100 euro il costo delle prestazioni. Non rapporti completi, quelli offerti dalla ragazzina, ma massaggi che sfociavano in più espliciti preliminari. Il tutto pubblicizzato in siti internet. Abbiamo accertato anche l'esistenza di una pubblicità su un sito di incontri che pubblicizzava la possibilità di avere prestazioni sessuali all'interno di quell'appartamento. Sono stati ascoltati anche una dozzina di clienti che hanno, ahimè, confermato l'esistenza di questa attività illecita. Ora la sedicenne è ospitata in una comunità protetta dove dovrà iniziare un difficile percorso di recupero. La madre, sconvolta al momento dell'arresto, è ai domiciliari.